Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori tastiere gaming Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento E adesso passiamo alla top 3 delle migliori tastiere gaming Quindi cominciamo con la tastiera gaming Empire Gaming Iniziamo questa top con questa fantastica tastiera da gaming di Empire Gaming L'aspetto positivo di questo prodotto è che non si ottiene solo la tastiera ma un pacchetto completo per principianti Infatti avrete la tastiera gaming, il mouse e il tappettino per il mouse Questo sarà perfetto per iniziare a giocare ai vostri migliori videogiochi E anche un pacchetto molto economico visto che al momento costa meno di 30€ La cosa migliore di questa confezione è che tutti gli accessori sono dotati di luci LED Che vi permetteranno di avere una vera e propria configurazione di gioco Con un'atmosfera piacevole per realizzare giochi incredibili Potete anche dare un'occhiata ai nostri video su scrivanie, sedute e cuffie da gioco Per ottenere un vero e proprio setup da gioco Poi troviamo la tastiera gaming Corsair Passiamo a questa tastiera di Corsair anch'essa di altissimo livello E una tastiera illuminata a LED che crea un'atmosfera davvero suggestiva L'aspetto positivo è che si tratta di una tastiera progettata appositamente per essere accoppiata con il legato Stream Deck Per cui i tasti laterali sono stati accorciati appositamente Questo è utile perché rende molto più semplice l'esecuzione e l'impostazione E non dimenticate che questa tastiera è anche in sconto del 25% al momento Quindi non esitate E per finire ecco la tastiera da gaming Logitech G213 Per concludere con marchio specializzato in accessori per videogiochi e accessori per computer In generale con Logitech Questa è una grande offerta per ottenere questa tastiera a basso costo Grazie a un eccellente sconto del 50% al momento Si tratta di una tastiera a LED con tasti molti solidi ed ergonomici Che consentono di giocare rapidamente senza scivolare e senza doversi preoccupare della tastiera Si tratta di una tastiera molto resistente I tasti non si romperanno perché la tastiera è stata progettata per questo Ciò che ci piace molto di questo marchio e di questo modello E' che fa parte del marchio Climate Pledge Friendly Che premia i marchi che realizzano prodotti ecocompatibili Ecco grazie per aver seguito questa top 3 Spero che ti sia stata utile Non esitere a mettere un like, un commento ed iscriverti al canale E' sempre un piacere Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione Puoi vedere tutto ciò E su questa nota ti dico a presto per un nuovo video